Era un perfetto sconosciuto l'uomo, identificato poi come un campano con precedenti di polizia per violenza sessuale e atti osceni, che per due settimane nel marzo del 2021 molestò telefonicamente una donna di 48 anni residente in Ossola. Sono 26, alcune ravvicinate nell'arco di una sola giornata, le chiamate che ricevette sul cellulare da un numero sconosciuto. Dall'altra parte c'era un uomo, con un marcato... Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.